investi su chi guarda lontano investi con enel su enel green power leader mondiale nelle energie rinnovabili acquista le azioni enel green power dal 18 al 29 ottobre in banche e imposte un'azione gratis ogni 20 per gli aderenti che le conservano 12 mesi chiama il numero verde 813 23 23 prima dell'adesione leggere il prospetto